Parliamo di un allevamento di ricci importantissimo. Allora Chiara, di che cosa stiamo parlando? Com'è nata innanzitutto questa idea di voler allevare ricci per poi espanderli nel territorio? Allora l'idea è nata nel 2016 grazie a mio padre Michele, che lui da sempre è uomo di mare e nonostante faccia un altro lavoro è sempre stato appassionato di questo mondo. E quindi diciamo un'idea è nata un po' come una sfida, perché è una sfida. È un allevamento che consiste in due diciamo sezioni, perché noi abbiamo un laboratorio a terra e una concessione demaniale a mare, nella zona della lingua. Il riccio è una specie molto delicata che richiede tempo per la crescita e abbiamo pensato fin da subito che fosse un'opportunità enorme perché il territorio Procidano, quindi le cosse di quest'isola, sono davvero super adatte e si predispongono nella maniera più adeguata per la riproduzione di questa specie. Parlavi di un laboratorio. Allora rifacci sinteticamente tutto il passaggio. Perché il laboratorio è poi a mare dove è chiaro che debba proliferare e crescere il riccio e poi qual è poi la destinazione finale? Certo. Allora il laboratorio perché la crescita del riccio consiste in tre fasi. C'è la prima fase che consiste nella produzione dei pluti e quindi delle larve. Dopo c'è la fase delle post-larve e questa prima fase è quella un po' più delicata perché richiede maggiore attenzione e noi con questo siamo associati. Il nostro braccio destro è la Federico II. Biologi e scienziati di questa università ci seguono proprio dai primi passi. e dopo questa fase c'è la fase appunto a mare, quindi la fase di ingrasso, dove è lì che termino gli ultimi mesi di vita e anche forse l'ultimo annetto. Dopodiché? Dopodiché si proseguirà per la vendita, quindi per la fase di confezionamento e tutto quello che ne consegue, diciamo. Ad oggi la vostra produzione a quanto è arrivata e che tipo di mercato avete già invaso in termini positivi? Noi siamo molto giovani, quindi abbiamo iniziato l'anno scorso a fare le prime fecondazioni in vitro. e questo dovrebbe essere l'anno lancio, quindi da quest'anno dovremmo avere i primi esemplari. Ne abbiamo avuti già qualcuno l'anno scorso, ma quest'anno dovrebbe essere quello definitivo per poi, diciamo, avere la crescita di tutto l'impianto. Cosa c'entra Venezia? Venezia è stato un trampolino, perché è stato un premio che abbiamo ricevuto venerdì scorso e si tratta di un riconoscimento a livello internazionale del leone d'oro e, diciamo, viene consegnato a coloro che hanno spiccato e si sono riconosciuti a livello internazionale e in questo caso, nel nostro caso, è stato per il coraggio, per l'intrapendenza e per l'idea innovativa che abbiamo avuto.